Gesù dinanzi a Giuda, mercoledì santo, la pazienza di portare il bene. Vedete noi scopriamo in questo giorno che ci sono due storie che sono sempre nella vita, sembrano sotterranee, non si vedono ma improvvisamente appaiono. Da un lato c'è la storia di chi cerca il male, di chi odia la vita, di chi prepara la rovina delle persone. È una storia sotterranea e improvvisamente vedi la croce, vedi il tradimento. Giuda trama, consegna, consegna Gesù. È una storia di male, abbiamo detto che non è neanche necessario, cioè il male, il tradimento, l'offesa, il portare via i meriti di un altro, il rubare i titoli accademici, non è mai una cosa necessaria, è triste, è Cristo. Ma ecco che a fianco c'è un'altra storia, Cristo prepara la Pasqua. Andate, troverete uno che vi dirà che c'è una stanza preparata, lì preparate per noi, dite che il Signore ha bisogno. Anche il bene, anche una persona che si sposa, una persona che diventa papà, mamma, una persona che scrive un libro, una persona che aiuta i poveri, una persona che diventa nonno, è una storia preparata da tanti gesti, da tante cose che non si vedono. Ecco, è la meraviglia di questa Roma, di questo mondo, quanti di voi stanno lottando, creando, resistendo, io sto usando sempre la parola resisto, no? Quanti, io vi devo fare i complimenti, Cristo vi fa i complimenti, cioè quanta gente sta lottando per il bene, per studiare, per tenere destra la gioia della famiglia, per scoprire delle cose, per fare tutto quello che è possibile. Una Roma che sta lottando per il bene, Cristo prepara la via, mentre un altro gli prepara il tradimento. Ricordate bene che Cristo delle volte dice, attenzione, che i figli delle tenebre sono astuti, voi non siate sciocchi, siate anche voi furbi, cioè voi dovete essere figli della luce, anche voi astuti, creativi, cioè voi dovete sapere che mentre un altro trama una storia di male, Cristo e la Chiesa con Lui e l'uomo di buona volontà con Lui crea una storia di bene. E queste storie non si separano mai, come il grano e la zizzania, fino alla fine. È inutile che uno dica io spenderò le mie cartucce quando sarà finito il Covid, quando sarà finito questo, questo. E adesso, il mercoledì santo è adesso, adesso c'è uno che ci sta per tradire e adesso c'è Cristo che prende il male su di sé. Ed ecco che voi capite che cos'è il male anche. È interessantissimo che negli anni Sessanta c'è stato un grande dibattito, perché una serie di teologi dicevano che il diavolo non esisteva, non era una persona, no? Poi invece Paolo VI disse ma no, certo che esiste, Papa Francesco lo ripete continuamente, no? E allora loro dissero il male è anonimo, non è una persona, sono le strutture, è una serie di strutture di peccato che esistono, che sono vere, ci sono anche le strutture, ma loro volevano dire che il male non è personale. Due grandi teologi, troverete voi chi sono, risposero con le stesse parole, prima uno e poi l'altro in maniera geniale. No, il male è personale, ma il male ti rende anonimo, cioè il male è veramente un angelo decaduto, è un angelo nato per amare, è l'angelo più bello, ma quando vuole il male diventa anonimo, non ha più un volto, prende la strada del male. E Giuda, che è un apostolo meraviglioso, potremmo aver avuto dei Vangeli meravigliosi di Giuda, dei fatti, non la fetecchia del Vangelo di Giuda agnostico che è scritto dopo, che sono tutte cose astruse, se voi lo leggete, leggete, io dico sempre, leggete gli apocrifi e capite subito che non sono veri, ci sono una serie di divinità che intervengono. Giuda avrebbe potuto fare delle cose meravigliose e non le fa, e anzi tradisce il Signore, diventa anonimo, diventa un volto che non ha più l'amore. Dissero questi due teologi, ve lo ripeto, il male, il maligno, ma il male che facciamo noi è la persona nella forma della non persona, cioè il male è una creatura, il male non è una cosa, è una creatura che dovrebbe essere bella, piena di gioia, e invece sta lì a rosicchiare, a preparare la caduta. Basterebbe che il maligno amasse una sola persona e potrebbe andare in purgatorio, basterebbe che Giuda amasse una sola persona e potrebbe andare in purgatorio, cioè la possibilità di cogliere questa misericordia è legata al fatto di ritrovare un volto. Ed ecco perché Gesù dice queste parole forti, guai a chi tradisce il figlio dell'uomo, sarebbe meglio perché l'uomo che non fosse mai nato. Non è una punizione esterna, vi ricordate che Gesù sempre dice beati i miti, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati, beati i puri di cuore, e dice guai a voi che ora siete ricchi, guai a voi che... e quel guai è attenzione, attenzione stai perdendo il tuo volto, stai sfigurando la tua umanità, Giuda sfigura il suo volto. L'Apostolo, colui che è chiamato ad annunziare, diventa quello che non ha più niente da dire, anzi dice solo il male. L'angelo più bello che dovrebbe amare diventa l'Anticristo, ve lo ripeto la parola Anticristo, attesta che Cristo c'è, cioè è la parola che inventa Giovanni, l'amico, l'evangelista, è colui che il male si scopre alla fin fine come colui che vuole eliminare Cristo, perché Cristo svela l'inganno. Il male ti rende anonimo la fede, la speranza, la carità, ti danno il sorriso, ti danno il volto, ti danno la verità. Ed ecco perché allora oggi noi siamo chiamati ad allargare lo sguardo, a riprendere in mano la storia del bene, a non scoraggiarci mai dinanzi a chi fa la storia del male, a perdonare, a sorridere, a costruire, a inventare, a creare, ad allargare lo sguardo, ad accogliere sempre altre persone. Ma non siamo chiamati solo a fare questo, siamo chiamati ad accorgerci che Cristo è questo. Vedete questa piccola immagine, questa me l'hanno regalata in Lituania, è il Cristo dei dolori, è il Cristo seduto con la corona di spine che è lì con il peso di tutto il mondo, il peso di chi lo vuole tradire, di chi lo vuole uccidere, il peso di coloro che si lasciano andare, no? Ma Lui prende su di sé il male. Noi celebriamo già nel Mercoledì Santo che se c'è una storia di male non solo noi ci opponiamo ma è Lui che prende su di sé, ha il peso sulle spalle, noi siamo i seguaci e siamo portati da questo Cristo perché il male è anche dentro di noi, anche in noi c'è Giuda il tradimento, anche in noi c'è una storia sotterranea, nascosta che poi emerge in alcuni momenti di male. Noi sappiamo che Lui porta questo male ed è questo Cristo che noi attendiamo nel Tridio Pasquale.